caso amici di youtube amici di instagram amici di facebook amici di buonasera prestinice buonasera ok ok in cittadista italiano zelic buonasera buonasera io comincio a parlare quando c'è qualcuno siete due uno e due ok 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 angela prestinice ok ok buonasera simona poi angela prestinice ci saluta poi c'è maria cara carrozzino carrozzella berbicurban passeggino avanti buonasera buonasera da 0 a 25 questi sono i colpi di scena i colpi di scena buonasera buonasera a tutti aspettiamo un po una sera a casa siamo 75 buonasera santina moschetto vuole partecipare al tuo mio già subito doveva partecipare subito santina passare a vannottare bella santina piano piano mi innamorai di te no di te di mia di voi di te proprio io mi innamoraste subito no piano piano ma la convinzione la convinzione è brutta per lui è convinto però vabbè lasciamolo nel suo mondo lasciamolo nel suo mondo lasciamolo nel suo mondo grazie grazie Tempola per le prime stelle appena comincio partiti di stelle no stasera se non chiede in parte di stelle e non chiediamo la live avanti bisogna chiudere se no dice ma che follower hanno che non chiedono mai in parte di stelle ma dice su molti di fammi il suo follower e il suo follower è come andare in una festa e poi aprire lo champagne sgasato che fa col tappo buonasera Rizzotto finiva un zero il Rizzotto invece il tappo deve fare BOOM si siamo stati da prima è arrivato il partiti di stelle è cominciato grazie a Mariella Trapani iniziate il partiti di stelle 5 minuti 4 minuti e 50 secondi ragazzi studiamo stasera mandate stelle in queste stelle dai ora immediatamente tappi 4 minuti e 35 ti ammazzosti dell'isata ieri brava Monica va caro Alessi e tutti il resto no no c'ho la febbre addosso quindi c'ho caro niente già 4 minuti e 22 e il partiti di stelle non comincia ragazzi ma vabbè fra 4 minuti e 13 secondi chiudiamo la live no Rizz ha la febbre Clarissa c'ha la diarrea si può dire si certo si può dire c'ha la diarrea saprai la Clarissa che chiede la parole ragazzi 3 minuti e 59 c'è il tempo Andrea Barletta e Trani grazie gente grazie gente buona sera domanda dopo così non vogliono chiudere il party sera a te Conte Armando e Nunzio grazie buonasera domasello Nunzio si avvicina dopo un blanco usaggio Stefano 3 minuti e 27 secondi usaggio sto così così ho un mal di testa grazie Natascia Davide Perroni non cazzo niente anche stasera non si chiuderà questo party ciao Maria Giletti ciao grazie Deborah 3 minuti e 11 secondi Maria Giletti ti amo bella ti amo siamo 142 se mandate qualche stellina si chiude il party usciranno fuori le stelle le fettuccine niente niente facciamoci vedere non ci amano non ci amano niente niente 2 minuti e 50 lo so che sono bellissimo grazie 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 Jessica Caporane grazie 2 minuti e 41 dai dai ma dov'è il mio Alexander no non c'è Alexander io lo scusavo mezz'ora dopo mezz'ora ve lo scuso 2 minuti e 29 secondi grazie Deborah 2 minuti e 26 ma ancora non siamo manco a metà dell'opera ciao De Ponte ancora è arrivato un end di De Ponte niente 2 minuti e 15 secondi per far esplodere il party ciao Tuziana non ce la facciamo anche sera quanto è espansivo il Conte mi sa che il regalo del tuo compleanno devi fare con lui ovvio c'erano tutti un minuto e 58 secondi per avere un po' di febbre un po' di mal di testa e anche stasera però cazzo il party offerto da Facebook non verrà chiuso grazie 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 ma ancora non ce la facciamo ma Mazzè Mazzò Mazzù Mazzà un minuto e 32 secondi un minuto e 32 secondi un minuto e 32 secondi io cazzo un minuto e 32 secondi però cazzo niente poi inizia il countdown al contrario perché siamo a 1 minuto e 22 vediamo se ce la facciamo niente niente allora Clarissa c'ha la diarrea e voi siete stitici avanti giusto stitici vabbè sono statici oltre che stitici un minuto e 5 secondi buonasera a Zin via via con la Zinzio su Facebook buonasera a Zinzio non so ne andate scelto 56 secondi sì c'è un po' di febbre ti sei tamponato e avvicami i tamponati grazie Maria Mazzè ma ancora non ci siamo 46 secondi 44 42 41 dai ragazzi anche stasera Facebook Facebook ora mi mando un messaggio e mi dice siete una delusione voi e i vostri follower scegli 29 secondi 27 26 25 niente non ce la possiamo fare più ma anche stasera va bene sempre cazzo 18 io me ne vado mi dispiace domani non posso venire santa mi saluta di più ah 11 secondi ormai sono diventata morti di fame di perdere 7 6 5 4 3 2 1 fine del party niente niente anche stasera ci dice Facebook niente questa volta non è stato raggiunto il party di stelle però ringraziamo anche Mary Mazzè e Jessica Caporale e altri due per aver partecipato questo è il messaggio che ci manda a Facebook buonasera ce l'avete freddo li avete freddo li avete freddo comunque vi ricordo che domani noi incontreremo voi e voi incontrerete noi grazie grazie Jessica Caporale è troppo tardi ti potete ritornare un minuto prima un minuto prima un minuto prima comunque grazie per le stelle grazie per le stelle però il party si è già chiuso la prima volta che ho visto i vostri video sono stato tutta una notte a vederli tutta la notte in Italia sta mia scelto buonasera Agata mi dice tempo scaduto il pensamento tu arrivi dopo mezz'ora scelto allora appena inizia la live le prime 100 stelle che arrivano Facebook lancia un party e ti da 5 minuti di troppo no bimba non sono arrivate le vostre stelle a cuore non sono arrivate buonasera ragazzi va bene però potete continuare a mandare no? allora ragazzi mi stavo dicendo domani noi incontreremo voi voi incontrerete noi dove vediamo se lo sapete vediamo se siete attenti dopodiché comincio i saluti perché siamo oltre 150 domani dove ci incontreremo noi con voi e voi con noi però senza sbaciucchiamento senza sbaciucchiamento e senza braccia auguri pure l'uora perché c'ho Covid anche inizia già l'hai scritto faccio finta di non vederlo certo che ha fungato pure i fommini faccio finta però che mi faccio di leggere è rimasto un po' scecato si è scecato annunfato direttamente complimenti Conte per le tue ricette sono stupende grazie Stefano Caruso ma non ci sono sti ricette da qualche parte ci saranno buonasera paratore paratore tu romani vieni al Frank Bar non Frenchi Frank Bar abbiamo arrivati brava brava signora alle ore 16.30 voi in punto lì e noi arriveremo al piano tavolo Frank Bar arriveremo domani ci capi offrono magari panettoni quindi potete mancare a parte per noi ma per non assaggiare il panettone del Frank Bar siete pazze no mi dispiace Rosaria Matranga se non venite siete pazze una pronta panettone grazie scelto e non venite ciao sorella di la sorella di Rosaria che è in ospedale con la bambina che ha la bronco polmonite se non mi sbaglio ho letto bene l'apprezzamento dice no con la polmonite l'apprezzamento non viene no Agata tu mi capisci Agata guarda stupisci come hai ridotto quest'uomo per te Agata buonasera buonasera a tutti Armando posso dirti una cosa pubblicamente posso dilla però devi scrivere una volta sola grazie buonasera di Calario bella dimmi Annalisa che poi cominciamo i saluti dai veloce 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 domani in quanti sarete al Frank Bar io voglio sapere chi mi hai preparato certo tanti 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 qui a Reggio Emilia domani hanno messo neve ragazzi ma non siamo a Reggio Emilia ma qua siamo in Sicilia ma qua siamo in Sicilia stasera lavoro e non vi posso guardare riguardo domani va bene va bene allora Annalisa io sto cominciando i saluti quando parlo non leggo quindi tu non hai scritto e quindi io non ti leggo certo buonasera buonasera a tutti bentrovati bentrovati buonasera ai nostri medici buonasera agli infermieri agli nostri paramedici buonasera a chi sanifica gli ambienti ospedalieri buonasera a tutti il personale delle cliniche quindi degli ospedali delle case di riposo dove ci sono i nostri nonnini che noi vogliamo tanto bene anche se non sono i nostri nonnini ma sono gli anziani gli anziani sono sempre i nonnini certo un saluto al 118 al pronto soccorso un saluto ai vigili del fuoco a tutte le forze dell'ordine a tutta l'Italia comprese le isole salutiamo anche la Francia l'Inghilterra la Germania il Belgio l'Olanda tutti tutti che ci seguono un saluto alle sore marcelline di Roma e di Milano domani ci siete le sore marcelline a Frank Park certo che ci sono stanno preparando Pullman ah sì Pullman bianco no? per le sore marcelline io sono buttato in mezzo alle sore marcelline Erika Balboni grazie per la considerazione non disturbo più in che senso Erika Balboni? Erika Balboni prima ha fatto fin da di non leggerla perché ha scritto una stronzata ha scritto ha scritto chi non manda le stelle non esiste vero? siccome ha scritto una stronzata e ho fatto fin da di non vederla io hai a Fredy già tu non mi fai non è possibile grazie a ai ragazzi ai bambini ai giovani speciali la grazia non ne ha quel tuo figlio come te ne ha da vendere grazie Annelisa questo era mi sembra una cosa peggiore e quindi buonasera buonasera a tutti come diceva Lucia domani alle ore 16 e pretta piano tavola Frank e Barri diamoci il bello 112 se non mi viene a treva 40 ti aspettiamo tutti 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 se no arriva solo il conto e poi mi vieni da la prossima foto tutti tutti quindi domani sarà un bel pomeriggio potete fare foto video ci conosciamo insomma sarà proprio senza base abbracci di cioccoli chiaro io non vi lascio mi raccomando portate lì le mascherine ci sarà il distanziamento quindi vi guardate da lontano fate conto che andate a teatro portate anche il cannocchiale quello piccolino il pinocolino da teatro con la stecchetta non ci possono toccare domani sono a letto ora con un mal di testa vena te poco ma con giudice vena magari io stai imbazzendo dove andranno fino a letto più calcetto e niente domani ci possono toccare un po' io sono assistente in una casa di riposo brava devo una battaglia brava brava quindi mi raccomando coccola sempre i nostri nonnini e salutaceli per noi non mi hanno voluto spostare l'esame io non posso sono disperata era un'ottima occasione lì c'ha zorcina quali esame non ti hanno voluto spostare? ah tu se ti spostavano l'esame venivi non te l'hanno e non fai l'esame comunque ragazzi noi saremo dalle 16.30 fino alle 18.30 circa in un tempo ce l'avete se non ti salutassi il godo ah ti salutassi il godo come non vieni Valentina Rizzotto non meriti tu Rizzotto no perché c'è Rizzotto verde come? non meriti Rizzotto no avete tutta la mia stima lo sapete credo che stimare una persona ha un grande valore grazie no Stefano non li puoi toccare tu niente non ti puoi toccare ma non ti puoi toccare il cuore perché tu in Italia ti non dà non si ha preso qualcosa si va pure lì in un'altra testa direttamente si si mi hai picchiato occhi mi hai picchiato zero non mi chiama niente non scende niente Francesca Claudia la piccola io vengo e vi tocco non ti puoi toccare no non c'è un cuore non ti puoi toccare io sono innamorato di te e tu di mia esatto veloce perché stasera sono completamente a terra con il morale lo sto benissimo ma per chi? Giuffrida ma Rwena è proprio perché sei Giudi Morale devi stare con noi allora avete fatto l'albero di Natale? seguo lo stesso mi piacerebbe proprio per questo un abbraccio certo dopo che hai sparato dopo che mi facessi il nervosire mi sei gustissimo ma ti bacio io ti amo no ieri era l'8 dicembre dice che è il giorno dell'Immacolata Concezione dove si fa l'albero di Natale per tradizione avanti di domenica tutto il cuore ma di settimana non posso il cuore di domenica di domenica poi mi dite di domenica siamo impegnati perché non di settimana allora lo avete fatto l'albero di Natale? sempre da 30 anni sono la mia vita ma io da 30 anni sono la tua vita sarà un nuovo virus anche io ho mal di testa e tutto oggi non passa vero Nadia ma così io penso che Stefano solo le donne possono toccare no mango ma neanche le donne no ma sì a metà novembre ho fatto l'albero se glielo presti a metà novembre a metà novembre certo perché a metà novembre che si chiama la mamma mia e avanti lei no l'albero si fa a dicembre a Palermo non venite se ci invita qualcuno a Palermo noi arriviamo se ci invitate in un incontro come quello di domani verriamo sicuro ma io voglio toccare no un po' toccare Francesco e Claudio allo piccolo ma intanto chi è che scrive Francesco o Claudio e chi mi vuole toccare Francesco o Claudio brava dice mamma Rocca brava Carmela Vivaldi ehmico tu dici si guarda ma non si tocca qua si dice dice mamma Rocca si guarda ma non si tocca a dicembre scatenate gli sfincioni ma cosa di riso buoni quelli di riso gli sfincioni si vanno per San Giuseppe grazie Giovanna Sessa grazie Giovanna Sessa che colore sono le vostre i vostri ambi e soprattutto che colore sono le palle del vostro albero i mesi gialli le palle del vostro albero che colore sono gialle le mie Renzi già l'ha fatto da due settimane cosa l'albero gialle le settimane fin di novembre ma donna mia vi aspetto a Bronte va bene Stella prima scendi tu a Piano Tavola siete stupendi vi seguo in tutti i social vi chiamo Vita da Palermo vi adoro bella grazie Vita mia allora che colore sono le palle del vostro albero? Borrello c'è un Covid non hai capito di prezioso c'è un Covid come abbraccio? ragazzi ho parlato una diretta perchè le lasagne mi chiamano come lasagne? come lasagne? lasagne? belle a tanto si ferma il 22 novembre per Santa Cecilia non lo sapevo non lo sapevo ma di Lore tu rumani vieni a Piano Tavola sei pronto nonostante tutto so tante tradizioni ti voglio bene però lo sfincione a Palermo e quella pizza con cipolla ah tipo scacciata Erika non mi fai nel possibile non mi fai nel possibile non mi fai nel possibile io ieri ho fatto il presepe brava Mena di Ponte ha mal di testa da stamattina come a mia Mena uguale è mia allora uguale Mena io e tu sei vissuto si si ho capito Rita albero bianco con palline rosse brava Carmela brava Rivaldi un bell'albero vediamo l'albero vostro rossa canista allora non mi fai nei nostri video nei nostri video si vede questo fa chiedere la creazione albero verde al doppio rosse oro brava Cassavento bella brava però che domani non vieni mi hai dato una pugnalata rosse dorate e bianche ma perché non siete monocromatici siete scelti me li trovo l'ho già investita ah già me li trovo è pronta Jane sei in macchina sei in macchina già tu pronta ma io c'era dice domani ci saranno le guardie del corpo puoi essere scelta le guardie del corpo noi lo facciamo la prima domenica d'avvento ma è quindi l'hai fatta a fine novembre se non mi sbaglio cos'era il 30 il 28 il 29 insomma in quel giorno i miei romani chiamano magari i vigili i carabinieri mi mangio una cucchiotta bella food ma qui c'è madonna no è morte di fame ma vabbè ma ci fa che madonna è una morte di fame no eccetera questo poi cominciano a dire forse c'è mia forse c'è la betta chissà comunque può essere che viene a Clarissa quindi se chi vuole conoscere Clarissa deve venire domani domani non siamo a Clarissa se ci passa la diarrea sì però io mi posso portare lei il gabinetto dietro eh solo Clarissa quindi tutti mi dicono ah domani a Clarissa se ci possiamo forse no vabbè no vabbè e quindi bianche ramate quindi che cosa color bronzo ramen bronzo ciao Nadia bello Nadia tu l'umani ci sia o Frank Barre vero? tu bello? sì Nadia fai la mano morta domani ciao Radia Nadia fai la mano morta domani a Frank Barre buonasera santo Scartini ciao santo 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 tu l'umani vieni a Frank Barre veste qua c'è un mese io quest'anno non l'ho fatto un mese fa è volato in cielo mio papà e senza di lui le feste non hanno più senso ci dispiace debbano abbattargli e invece dovresti fare proprio perché il tuo papà lo faceva perché il tuo papà piaceva devi continuare a farlo quindi è come se gli togliessi una cosa che a lui piace l'albero di Natale è un simbolo ha rizzotto vici bianco lei le palline ce l'ha bianche e color rame ma che colori è rame? tipo marroncini? sì bello tipo rosate no però ci sono io come guardia del corpo devo sostenere l'amore mi dovete partire per venire solo per vedere voi con tutto il cuore forza Carmela ancora sempre Carmela vieni dell'aereo scelto e arrivi poi i romani ti buttavano magari alla nostra casa c'è nessuno altro ah ti ha tu facevi la mano morta mano morta mano morta non mi invica la mia cazzotta forza la mia cazzotta se vuoi ti faccio la guardia del cocco va bene stefano scelto tutto bene che vuoi fare la guardia del cocco fare un monumento a clarissa un monumento a clarissa sì sì ma io i monumenti già ce l'ha i monumenti dei cazzotti no lei il monumento già ce l'ha per inviare delle donne in lusso cilitero eh perché è un monumento non c'è certo no no io non farò video domani per quelli come me che non possiamo essere no no domani io sono impegnato per voi io video ne farò i follower li metteranno nelle loro pagine quindi chi ci sarà ci taglieranno farà video non lo so io non ne faccio video scelto perché domani io sono grazie Emanuela Giuffrida per le stelle le colazioni rosse e bianche ma le più belle quelle fatte dei miei figli durante gli anni di scuola elementare e materna bella Giuffrida nostra bella brava se potevo sai che non ci ho fatto apposta per stuzzicare sei una gran bella persona volevo solo schiacciare dai che domani stai meglio Erika dai io schiacciare motivo in privato ah ok Agatha ora lo leggo tranquillo stasera leggo chi è mi dispiace mi avrebbe fatto piacere averti tra sogno innamorato proprio tra le persone illustre di domani no? più corpo che guardia Simona volevi fare che prima è ancora tuo corpo più corpo meno guardia quindi tuo corpo a Frank Bauer santo giusto giusto Roma è la signore che è professore ma proprio tutti i scusi state giù a nuacce a base io allora chi non ci sarà domani a Frank Bauer io domani io ve lo farò di nascosto mentre tu i video li puoi fare poi li potete fare li potete fare li pubblicate ci taggate domani domani chi sarà Frank Bauer io segnerò nome e cognome conti che ho dato a Clarissa lasagna chi non c'è stata è la lasagna che ci dice a Clarissa che ci dice bene la DR mi dici conti ma che cosa mi hai dato la lasagna mi dice no quella non era la lasagna quella era purgante ci si vede ma non è che qualcuno sbagliasse le fave di fuga con vecchi salti certo che esiste Nadia certo che esiste Clarissa ovvio dove si trova di preciso Frank Bauer devo prendere la tangenziale Manuela devi mettere nel navigatore Frank Bauer e via con Gimbello 112 piano tavola è facilissimo vai verso prendi la tangenziale vai verso non ti abbiamo salutato perché non ti ho messo vai verso il TNAPOLIS ciao e devi uscire a piano tavola è l'uscita prima di arrivare al TNAPOLIS segna segna in un'ora di strada devo fare me li trocono brava comunque Clarissa ci ho dato le lasagna lei non se le è mangiate subito poi gli è venuta voglia stanotte a zicchiamire il frigorifero ha aperto l'armare ha preso i confetti i farco e se le ha mangiate tutti quanti quindi pensate voi che sta succedendo da Clarissa ma con ci scelto ah va non c'è non farlo dito no no ragazzi ma se no sono domani dedicato a voi li posso mettere a fare io già non ne posso fare perché se no mi sto a casa e non faccio i video certo ma voi potete fare tutti i video che volete pubblicare domani le mie carni sono le vostre di chi ci sarà il Frank Butler certo ciao mi fate troppo simpatia mi salutate per favore Alessandro Stefania Pandetta ciao 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 non c'è proprio i 48 anni 49 49 49 che c'entra io bloccherò le persone di Catania caro meno che c'entra tu lo sascio che si di fora e non vuoi venire basta che ricordano il numero dei carabinieri 112 esatto vediamoci meglio 112 ma poi basta scrivere su Google Maps Frank Bar e già vi da l'indirizzo quindi non è difficile anche se non vi ricordate la via vabbè beh il piano tavolo è veramente ma no povera carista ma sei in giunata quella anziché mangiarsi le lasagne si cala i confetti farqui di notte infatti Simona le cipalli da risotto ciao Frenzi Mazzone troppo o cacca ma vero è ma chi parla i cimici chi dà una labbra no vabbè sempre lei non si smentisce mai certo e chi dorme solo in ansia come una bambina dell'asilo brava la troppo l'ho già in mano domani ciao ciao un'albero verde palline blu bamboline pallone blu e bianche casette pallone ma le hai fatte tu? le hai fatte tu? le palle della ricetta sono color cacca è vero ah di colori è raro ma io come vengo domani sono in Germania non posso vedere no tu sei giustificata a cuore è stata a Germania anche se anche in Germania ci sono gli aeni però va bene uguale conte che menù prepari per Natale illuminami e chi sono la corrente elettrica cacca di illumino ah io sono la corrente elettrica illumina appunto dice Meritroccolo non ci cade i scusi Meritroccolo è di Enna sta venendo domani da Enna cioè non so se mi spiego da Enna voi di Catania state cercando tutti stessi mangeremo gratis domani a Frank Bar no ma assaggerete assaggerete a nicchia panitoni proprio perché quello che rimane non lo sappiamo se lo offrono quello che rimane ce lo daranno a noi scetto ve ne puttano a casa scetto 49 ma sei sempre un bel giovanotto grazie Stefano apposto 49 anni scetto buonasera a tutti ad un bacione ai miei amori grazie a Catania a Catania si dobbiamo le mani una risata se non ricordo ricordi male Emanuele ne fa 49 vi hai imbrogliato fino adesso come hai imbrogliato sulla mia età io ne faccio 51 guarda hai scetto due anni di differenza abbiamo scetto ne devo fare 52 tu hai detto 30 anni di differenza ma in effetti sono tre hai aggiunto uno zero perché sei un maiuolo un maiuolo un maiuolo un maiuolo un maiuolo che è ladro maiuolo sei ladro ciao Dallie ciao Dallie Dallie Lieggi se non mi sbaglio è in belgio può essere grazie grazie a donna benvenutita bella per quelle stelle ma che sono chi ha i cani i più fotoprofili che peggi Volevo dire a Schirami, il mio corpo Armando più il tuo corpo si incorporano E dove ci incorporiamo? Ma il corpo è mio, non è tuo E io mi incorporo con chi? È di mia proprietà, certo Eh, quando ti fai sanare il cervello forse Come il cervello è un bello sanato Fino a quando non ti sale il cervello, Antonella, Luca, Barba Giovanni domani c'è Allora, Ramona D'Urso, Nunzio ne fa 49, io ne faccio 50 Bravo Ramona D'Urso, tu sei bella attenta, bella Siete persone meravigliose, vi voglio bene tanto, grazie Nadia, ora ti chiamo a te, Nadia Manomorta Nadia Manomorta, Armando però, fria Rosa, tua nuora, con i soldi di tuo figlio mi ha fatto morire Scusami, per Giud gli ho regalato una rosa che non appassirà mai No, Nunzio, tu attenti Una rosa gialla 49 ma sei sempre 6 Sì, ma tu lo conosce, noi li conoscete con Stefano Sì, grazie, grazie per la vita che li conosciamo Ah, sconvivente, quindi Ah, per questo ti piace il pistacchio Ciao Giacomo Sciviglia Perché quando frequentavi a Stefano mangiare i pistacchi a Bronte Sì, una liaison Sì 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 Grazie Rita Tosca Grazie Tosca Ragazzi se Se ripetete io vengo a trovarvi Ritorno da Roma E non lo so a cuore se ripeteremo Intanto vedremo come va il primo Infatti Saremo lì santo fino alle 18.30 Quindi appena tu non meni niente Avanti Buonasera Ma poi che fai a scuola di tuo figlio che ti dicono Ora i professori ti diranno Vengono sempre i genitori dei più bravi I genitori dei più educati Fini alle 18.30 Saremo due orette Carmela non lo so quello che hai detto Non lo so Innanzitutto sono mia Questo è fondamentale Sì Armando e ragionano la rosa con i soldi di tuo figlio C'è qualcosa Perché se mi figlio meno soldi mi ha questa rosa Quindi proprio Ma chi va domani ravanateli anche la notte mia Domani a ravanare vendi Ma cosa significa ravanateli? Bello Il presepe molto particolare Fatto dal mio compagno Ma è Mastro Gerpetto? Ma perché tu sei Pinocchio? Tu sei Pinocchio e Mastro Gerpetto Nunzio ogni tanto puoi pagare tu Ma non ha i soldi Ma se io quando mi ritiro lì sotto mi levo i soldi Con che cosa devo pagare io? Che non ne ho mai Cuori non posso venire domani Mio marito è a Palermo per le consegne con il camion Non so quando torno Io sono senza Ma ti fai accompagnare Non ce l'hai una vicina Una Vieni con un'amica Con tua sorella Anche con tua suocera Non è un problema Ah con tua suocera Ah Potete venire con questo Bravo Antonietta Non si parla di soldi davanti a me Ah Nunzio è geloso no? Fa tutta la sceleggiata Guarda Geloso il sogno Si proprio A me dispiace tanto non poterci essere Mi sapete Cioè io Mi sto bloccando stasera Ah io la prossima volta ci sarò Purtroppo fino a sabato non siamo in isolamento fiduciario Armando 63, 17 luglio Non svelare questi misteri Allora domani per chi ci sarà io farò vedere anche i miei piedi Quindi non vi potete perdere domani questo appuntamento a Fregobar Alle 16.03 Nunzio domani ti metti i pantaloni bianchi sexy Shake Nunzio ma come fai questa pillola? Io mi metti bermuda direttamente sotto il costume Ormai mi detesti Ora vi trovo domani Domani sarà dura Non abbraccio Nadia a mano morta Non ti detesto Sono innamorato Non mi fai sentire Anzi domani vengo col trench Con l'impermeabile Chiara Non può più proprio Non la voglio Non ho sotto il vestito nulla Quindi siete lì fino alle 17.30 Fino alle 18.30 saremo lì Il 18.30 Mi è piaciuto tanto Maglio quando ha detto Guarda che qua ci conoscono Cosa stavo facendo di male? Allora almeno siamo più belle Più abbiamo più tempo per parlare No no sono un genuino Due ore sono poche Almeno fate 16.30 Fino alle 22 Facciamo fino alle 22 meglio Per iniziamo la live La Fregobar Dipende dipende Non lo sappiamo Non lo sappiamo Tu stai svelando troppe cose Soltanto degli orari Perché si devono organizzare Allora loro devono essere lì Dalle 16.30 e poi Certo che arriva alle 20 Eh non lo so Valerendi Sceglie Giacomo Giacomo Direttamente Sceglie Giacomo Nadia Mano Morta Nadia Mano Morta Ora sono online Ora sono online Mi colloquio Bravo Brava Cioè non bravo Quindi Santo Scandilli Farlo online Sceglie Vole indirizzato Io i veri Fazzabili Romani Domani Li potrete anche toccare Da una Ti tagli la faccia Ti tagli la faccia Ti tagli la faccia Ti tagli la faccia Ma fatti non mi ha cucinato Ciao sono la ragazza che vi ha cercato Prima su TikTok Se siete il mio sorriso Bella Romani mi ne ha un leggo bagno Perché non mi salutate mai Teresa Ti salutiamo ogni live, non sapevo che tu sei mai innamorato di me, mi scrivi in un video, ti ho mandato tanti fori, tanti bacetti, Giuseppe e Maria Bonacorso, buonasera, ciao Pampalone, Tutte e due, ma è nato un amore pure e pulito, condividetele con noi, domani le fori risaltano addosso, sì, e chiediamo, umani, tutte al Freck Bar, brava Meritrocco, Armando una rosa un euro, dieci rosa un dieci euro, perché una un euro, semmai una rosa un euro, undici rose dieci euro, no dieci rose undici euro, Ti confundiste a scrivere, ma questo ci pensa mio figlio, mica ce li compravi io le fasce di rose, no Meritrocco, io mi faccio toccare i peli, poi qualcuno me li laverà anche i piedi, per il fatto che... Anna Rischerma? Allora, marito di Anna Rischerma, domani cerca di spicciarti questi consegni e cerca di tornare in tempo che tua moglie deve scendere al piano tavola al Freck Bar. Non posso venire, sono in ospedale, te l'ho detto, perché sto finendo il ciclo di chiamese, la casa mi dico, va bene cuore, tu sei giustificato. Certo, vabbè, io domani mi prenderò esattamente dal nord, ma non è raggio freddo, dove chi viene? Dal nord? Certo, mi chiedi? Mi chiedi? Vi posso dire una cosa, Armando aiutami, ma la settimana scorsa ho poggiato con le immagini, ho metto video per parlare, per parlare con voi, che devo fare? Non ho capito, non ho capito, il tuo cuore non ti ho capito, se ti esprimi un poco meglio... Non ho capito, non essere veloce, puoi fare, puoi scrivere tanto. Io vengo a mani vuote, tutto grafico e sicuro, Armando, mi aiuti tu a mettere tutte in una borsa. No, tu avverai, ma che belli i soldi! Tu devi venire già con la borsa piena! A proposito, domani si accettano offerte, noi verremo con un cestino, così voi potete buttarci i cusci in quattro euro... Ho fette, ho fette, poi se loro sono pirucchi o si pieghi... Sabina è prima pigiato, in che senso pigiato? Su che ruota? 17, 63, 33, 24, giocate questi numeri. Allora, giocate Armbo, Terna e Quaterna sulla ruota della vostra città e sulla nazionale. Brava Flavio! Brava Flavio, vedi i capricciarini, tu sei pescato. Brava Flavio! Bella! Le stelle sono tante, milioni di milioni! Ovunque, volevo parlare e salutarvi, chi ha i saffari? Casa, non stiamo parlando, Sabina! Non stiamo parlando a casa, salutini, parlamo, uscite! Enza Tomasello, regali, li vuoi, annunzio? Occhio, a proposito! Ma da che annunzio? Domani portate i regali del mio compleanno, gli viene, scelto! Poi 24 dicembre, scelto! Io mi metto a piangere, le mani vuote, ma come? Dovete portare il panettone e l'annunzio per il compleanno? Non li voglio, bravo! Brava, me ne so niente, quello con l'uva passa! Un'isema chiesa, scelto, accetto un'offerta domani, scelto! Oppure sì, se vi andate a Simona, devi giocare su Palermo, ma devi giocare anche sulla nazionale, ruota nazionale! Sabina, se ci vuoi vedere devi venire domani al Frank Bar, dalle 16.30 e poi saremo lì, per l'incontro con voi! Cosima massena, no, Corinne massena! No, no, offerte a partire da 20€, no, da 100%! Ogni lavata vi chiedono 10€, ma perché chiedono un giovedì santo? Mi lavo l'iperica! Mi lavo l'iperica, gli apostoli! Io sono come il Conte, quando faccio l'aperitivo quello che non consumo me lo porto a casa! Ovvio, bravo! Ho fatto bene? Ho fatto bene? Proprio! Avanti! Se vi riesce, sì, magari, ma che? Ora vi saluto a domani, si lavora a notte! Ciao Stefano Caruso! Armando con l'aperitivo di meri che ridere è rotto come la mia amica! Allora, però vi devo svelare un segretario che ieri ho messo nella borsa di mia amore, a pizzetti, arancini, tutto ciò che non era stato toccato e ce li siamo portati veramente! Il mio figlio si è fermato in una piazza di Catania dove dormono i crociano e gliele ha offerti all'oro! Quindi, per chi dice che non facciamo... non è una beneficenza, però è un pensiero! E quindi, per chi dice che non fate beneficenza perché voi siete, perché così e perché così... anche questi piccoli gesti che io manco dovrei dire, no? Però, molti ci scrivono massacrandoci, ah, dovete fare, dovete fare... ma cosa sapete voi? Cosa facciamo noi quando chiudiamo il nostro telefonino? Non lo sapete! Stefano, ma ricari il Samsung S21 e chi mi ne è a fare che io ho un iPhone 12? Non lo devo fare, il cuore è mio! Bello! Ariadini 3! Quindi... Bravo il piccolo! Palermo è nazionale! Certo, Simona, Palermo è nazionale! Ma veramente eravate da Ernesto? Si! In un secondo momento si! Si! Signore, si nasce e non si diventa! In un primo momento eravamo da un'altra parte, in un secondo momento eravamo da Ernesto, Ernesto spara adesso! Va bene ragazzi, io dietro a un grande figlio ci siamo un grande popolo! Si dice sempre che il frutto non cade mai lontano dall'albero, si dice così? Scusate, stavo sbagliato e mi chiamava bene a Freddy, stasera consideratemi! Quindi dietro, il frutto non cade mai lontano dall'albero, vi state facendo confondere! E quindi... Ma qual è Margherita? Io l'ho detto solamente... Chi è Margherita? L'ho detto perché veramente ci massacrono voi che vi fanno tutti questi regali, voi dovreste darvi beneficenza, vi ripeto, per tutte le persone che pensano e ci vogliono massacrare o forse ci vogliono mortificare, vi dico che quando noi chiudiamo le nostre registrazioni dei video voi non sapete cosa facciamo, sapete come produciamo la nostra vita, non sapete veramente molto molto poco, quindi quando scrivete questi messaggi non ci massacrate, ma ci fate veramente tanto video, cioè vi cambiate le risate, ma facciamo ridere a voi! Dimmi Valentina! Valentina dimmi! Parli a chi non vi conosce! Tinocchiaro ma tu vedi Romani! Probabilmente sì, probabilmente sì, però sai... ormai mi sono abituato all'inizio ci restavo un po' male, ma come fanno, ma come fanno? Nunzio mancano quattro giorni a cosa? Al 13? Santa Lucia? No, sto compleanno! Per me è Santa Lucia! Poi li accetti buoni da spendere ai negozi? Certo! Portami! Poi sappiamo noi a telecamere spente che cosa succede? Poi domani portate, portate, che poi io sacco io che fare, scelta! Allora, prima di andare a letto prenditi un tachifru, miele e limone, non ne ho il cuore! Non ne ho il cuore! Ma la mamma dei cretini è sempre incinta, questa gente è povera d'animo, è vero! Quindi noi ironizziamo, noi incitiamo, ma veramente non sapete cosa succede alle spalle! Io parlo spesso di voi, siete la parte migliore di questi social! Grazie! Ah c'è Margherita, una tua amica che ci guarda! Ciao Margherita! Perché Margherita è vera, perché Margherita è il sole, perché Margherita ama e lo fa una notte intera Orientativamente era così la canzone del grande Riccardo Cocciardo e Margherita Anche a me quindi, che cosa anche a te Rizzotto? Ah la Rizzotto ti ha scritto qualcosa e tu hai detto io pure il mio compleanno E Santa Lucia non è di Santa Lucia Poi ci sono pieno di medicinario eccetera eccetera Mi piace tanto se si fa! Grazie! Grazie Angelo Di Liberto! Sì che bella voce che ho! Sariva metallica forse! Attraverso il filo del telefono! Saluti mia nipote Melina Sapienza che ci piacere! Ciao Melina Sapienza! Ciao Melina Sapienza! Mi dovete giustificare! No, non mi sto giustificando assolutamente! Era giusto per... ho fatto un'associazione gesto messaggio Ah ci si, tu domani Agatha, brava! Domani mangi il pello con il tonno Quindi gesto messaggi ricevuti perché... vabbè, va bene uguale Buonasera ragazzi, non ascoltate nessuno, siete sempre d'amore vero Grazie, 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 grazie Ma stelline non ne vedo più! Ma me le devo chiedere io le stelline Ma me le devo chiedere io le stelline Dai, le stelline, le stelline Non capite, i nostri occhi mostrano quello che non è necessario dire Gli occhi sono specchio dell'anno Brava Giuffrita nostra! Quindi si legge che stasera l'ho a fuoco? Prima di giudicare la vita altruida sotto le loro scalpe Brava, grazie Debora! Vi saluto tutti! Debora è sempre presente con le sue stelline Ragazzi, ricordatevi sempre che la Carlina che canta è perché ha fatto un uomo O perché ci brucia un culo E allora la seconda, Rosy è la seconda Sì, è la seconda Sì, è il mio compleanno Grazie Ciao Vincenzo, vince! Domani vince si aspetta un vecchio bar Alla parte che avete comprato Appena non meno Ma ci credi che non c'era più nulla? Non c'era più nulla Non ci sono le misure Gli assortimenti sono finiti Quindi c'è... Non lo so Oggi solo 7000 persone abbiamo lasciato alle ore 17 quindi... Troccolo tu l'hai i soldi, vuole più molto di fare di noi Sarete tutta la famiglia di Nunzio Sarete tutta la famiglia di Nunzio Sarete tutta la famiglia di Nunzio Che sta scrivendo Ma chissà Ma sta delirando stasera a Borriello Ah, si la hai? Sì, sì, saremo tutti insieme Ah, sì, tutti insieme Certo, appassionatamente Come il famoso film Tutti insieme appassionatamente Sta delirando La Borriello Domani che ora? 16.30, 18.30 Questo è in range Poi potremmo riparare fino anche alle 19 Come potremmo andare via alle 18 Quindi non si sa Frank Party a Notavola Via Moncibello 112 Grazie Vengo per voi, no? Per mangiare Brava Ah, non mere più mangiare No, la tua febbra L'umano appena tocchi i panitoni La tua febbra mi ha portato a casa Vengo e vi offro la colazione Possiamo andare in un altro bar Perchè per forza da Soave? Ma mentira Da qualunque parte Ce la offri in un altro bar Per forza di Soave a Mabelli Ce la offri a Frank Party per esempio Certo Avanti Ce la offri a Berfasto A Catania Ma ci vogliono poi I ticket per entrare Non andiamo sempre negli stessi posti Domani ti dobbiamo fare Vince, domani vieni E se vieni Ti faccio cantare anche una canzone a cappella Così ti faccio conoscere da tutte le mie forum Tu scendi alle stelle Allora una canzone inglese che fa così E one E two E one, two, three Io per la felicità domani mi ubriaco Va bene, va bene Meri E va a far guidare Vieni sbronza Vieni sbrilla Vieni sbrilla Vieni sbrilla Vieni sbrilla Che poi se sei ubriaco a me mi tocca portarti qua a casa nostra Vieni sbrilla e vieni bonza Farti coricare qua a casa nostra Ma che si vivevo con te Niente Avevo fatto un remix Vi invito a Trisbar Ci sto A Trisbar Vieni con Debora Che mi piacciono belle arancine a Trisbar Vieni con Debora Vieni con Debora Grazie Rosi Un inglese molto particolare Si è un remix One E two E one, two, three Tu scendi dalle stelle Non mi pare un ciocco inglese Neomelodico Conte però canti e muoverlo e cantando una canzone neomelodica Io non ne conosco canzone neomelodiche Ma quando posso venire da voi davvero ti ho porto la spesa fuori Ma quante buste Dipende quante buste Vieni su un momento il cane non sa casa tua Allora il Trisbar si trova in piazza della Guardia a Catania Sotto i cortici ad angolo e poi inizia la pieduca degli abruzzi Allora la drocca lo dice viene con il suo compagno Così conosciamo anche lui Però lui è molto timido e non è un amante dei social Spero che ci conosci bro E chi è la macchina? Spero che appena arrivi ci mangi succhisti E' la bionda Voglio una canzone io non la so Non le so queste canzoni Conte canto Oh mia bella madonnina Non è così Come no? Oggi è un giorno molto triste ma il conte mi sta facendo morire da dietro Dalla Puglia Perché non è così? No Oh mia bella madonnina Che la fa cagliare C'era ma non è napoletana la canzone è milanese E niente io così la so Sì è napoletana Io la posso cantare a chi si dice la Oh bella madonnina Oh bella madonnuzza che mi fa chiamare il cuore Ma a canzoni Tu non sei mai diventato bravissimo No no Mi voglio compromettere No io per nulla Io per nulla Io voglio venire a casa vostra Nadia tu puoi venire Ovviamente gratis Ma tu hai le carte I carmelli essenti Hai i buoni fruttiferi Certo Ah ti spiega le note vince Poi te le spiega lui le vince Non fa morire da ridere con sto rinicchio Ma certo ragazzi bisogna rimodernare le canzoni Sono belle le canzoni Un pannolone Un pannolone Un pannolone Un pannolone Un pannolone Io sempre mi metto un pannolone Sì sì non mi sopporta più Pensa chi ha rinviato non c'era questo collega Anzi l'ho fatta rinviare Ma tu sei il numero uno Bravo tu sei il numero uno 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 E poi pensate che la Troccolo E non lo so se lo è ancora Moderatrice e fan di altri due di TikTok Che sono Nicola e Marta Ma io ti appena visto tu marcia si innamoravo Buonasera stella battaglia Buonasera Buonasera Una bella maturina Te che è il numero uno Te che è il numero uno Te che è il numero uno Te sei il numero uno Non è napoletana Niente non lo sapevo C'è la luna in mezzo al mare mamma mia mi morì C'è la luna in mezzo al mare mamma mia noi mari dai Hai 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 Stavano volando pure i siano Troccolo non hai capito a ciappare però No, tu delicatamente, dolcemente, ci voglio dare dei miei amici, ho scelto, io non puoi si convincere E uno, e due, e uno, due, tre Ragazzi dovete sapere però una cosa, io sono molto timido Meglio vittire la crozza, vittire la crozza su, non sarò come mi venite qua, io sono timido E a me già mi tremmo alle gambe a pensare che ci siete 50 di voi, scelto, io mi sento già, siete troppo simpatici, sono innamorato di tutte e due, vi seguo anche su Tittacchista, con Facebook Ma ci segui o fai la finta? No, perché non fare le sopracciglia, ma assolutamente no Ma chi l'ha detto? Io, c'è mio fare le sopracciglia, sono così bello Ma in poco se la farei, hai ragione Ma no, ma in Natale ci fa soffare, venite in Puglia, in Puglia dove? Poco faccio salutare una di Andri e io ho voluto concludere il triangolo di Andri a Barletta e Trani Sei catanese, ci credi che io non lo conoscevo fino a quando non mi hanno fatto che mi fosse? Anch'io me li, me li troppo io domani, io le mangi italiane Siamo timidi io e tu, scelto Quanta picca sono, che cosa cinquanta? Aspetta, le cinquanta persone che ci saranno domani Ah sì, bene, io non me ne faccio, Vincenzo Ma poi ci faccio fare prima di fare Ma non esiste proprio, ma fatemi di voi Io mi faccio, sai, la ricrescita Mi ho messo in seguito, mi spuntate sempre nei miei seguiti, ovvio, bravo Grazie, bella Ma meno male che non mi vedete le lacrime, André ti stai scompisciando Certo, io sono timido, io non amo stare al centro dell'attenzione, non sono esibizionista No, per nulla Su TikTok sempre tutto è il contrario, ma picchio, fuori in ritardivo e scelto No, certo No, è proprio tu un martorio Tu sei una regua materna Vabbè, mi devi tu un risotto Me lo giuro, lui è una regua materna Non è vero No, questo no Una regua materna Però quando ho tante persone davanti Alvarina è arrivata Alvarina è già in Sicily Già in Alvarina in Sicily Però ci incontreremo domani anche con lei E in Albetto domani mattina faremo una colazione Insieme anche a Clarisse Ah, domani è alvarina con Clarisse Si, si prenda un te Un po' di latte con i biscotti Però latte senza lattosio Quindi proprio Però l'importante è che già Alvarina è in Sicily Allora, guarda Rita Caffarella mi dice di venire a Trani Domani dove? Domani a Frank Bar Via Moncibello 112 Piano tavola a bel passo Frank Bar Mi dici di venire a Trani Mi stai invitando al nozzo Io trovo Trani spettacolare, carismatica, bellissima, elegante Ragazzi buonanotte Fine, storica Ciao Maria Rocca Buonanotte Tutto, tutto, tutto Non che Barbetta, Andrea Ma Trani A me è sempre piaciuta Alvarina viene già arrivata in Albetto Domani va a fare colazione con Clarisse Poi che era mia Dopo Qua c'è a mezzo Pure una persona Guarda Quando è venuto quello del condizionatore Allora se c'è Alvarina Non vengo come Alvarina 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 No, no Se gli ho detto vestiti composte Per chi non sei con soli Shit Frank Bar a Pianotavola Dalle 16.30 Via Moncibello 112 Rapiti l'occhio Non ci può alvarina 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 Ma perché Spendere ognuna domani Ma perché Spendere ognuna domani sera In che senso Ma chi deve spendere ognuna In che senso Domani devo spendere ognuna In che senso Vabbè vince Ma perché Non scendere ognuna Ah Perché non fa ognuna C'è il freddo No, questo freddo Ma tu ci vai a ricci Ti vedi un po' di ricci Di mare ognuna Ma in Colombo Non vaga nessuno Anzi Arrivate lì Conoscete noi Vi offriranno qualcosa Uno di Puglia Lo conosco Uno lo conosce Verremo sicura mai Friglia mi ha detto Che c'è mamma No, tutto ok Antonella strano Da morire Antonella Valentina Abita proprio lì A Pianotavola Vicino al Togal E lì vicino al bar Ma chissà Ci c'è un bar Il Togal Allora Il Togal è alle spalle Di Frank Bar Oppure al Togal No, lo sai il Togal dov'è? Vicino all'altro bar Come si chiama? Eh, Giorgeri Vicino a Giorgeri Il Togal è da quelle parti lì Vabbè, vicino A meno che vi prendete Chissà giù Una bottiglie Ci sono La spigola e paura imperiale Io mangio uovi Masculini Sardi e rizzi Ognuno Ognuno Ci ti piace Un'espegolazia Sì, e io invece mangio Ovi Masculini Sardi Così Pesce povero Non è che io sono Vino Scicchissimo No, non ci sono No, domani lavorano Purtroppo Albarina è già lì pronta No, Albarina è in hotel È chiusa e blindata 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 con Clarissa 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 è blindata nel bagno Perché c'è la diarrea E lei, Albarina Si sta dicendo Un rosario A posto Tu Ciufazzo Tu Sissi Ciufazzo Lei è già il Sissi Giacomo tu chiedi che sei di Catania Con quelle quattro belle bionde Che mi piace da bere Vieni in Scipiria Il pesce serio Che tu vaga a costa Ma tu che hai i soldi Ci piacciono Il sardi Io mi mangio Io mi mangio i sardi Perché si girano negli altri Ma i sardi Sono negli più vinci Ma di fatto io ci dico al pesci vento Che c'ha i sardi E tu mi fai Ma come con i sardi Si compra un pesce più rinomato No, è per il cattolo Ah, allora ce lo regalo E io mi mangio i sardi fritti Sì Ma avviso Ci piacciono pesci Che tu bello Demorato Come se sei albanina Poi un caffè a tua nora Lo puoi fare, Conte Ma se l'hai preso ieri al bar Si, ci ha chiuso il suo marito Io ci ho detto Un caffè per mia nora E il suo marito ha pagato Certo Certo Lascia la chiusa Se no ti violenta No, che c'entra Quella già è in Sicili Lei che è in Sicili Già è contenta Ma Ugo Zappalà Di dove sei? Ti posso chiedere di dove sei? Alvarina è un rosario Alvarina è un rosario Alvarina è un ballo e cammini con Ve la potete fare Ospirare la vecchia pagina Buoni sardi E' da granizza Alvarina Le sardie sono buone Le tè di squamare Allora Giacomo Ah, domani viene Giacomo Scipiglia Con quelle quattro a bianca Ah, questo Ormai tutto a fregge in pari Le sardie prima le devi fare a squamare Sardi allinguati A cena fuori Armando Da buttarli Non c'è bisogno Non c'è la borsa di mia nora Quando esco con lei C'è io Ma spavivi sono le sardine Quindi ha dei bossi Capare con pittini Carrelli della spesa No, non sono le sardine Scusate, sono le alici Le alici Le sardine sono Quindi quando c'è in piena ora Quella borsa Che sembrano carrelli della spesa Vincenzo, qua non c'è un tap tap Ah, c'è Macarica Fate tap tap Certo Andate qua Perciò Luca Zapparana mi risponde Senti Capare Le alici, Letizia Sbagliaia Le alici sono belle Vissi sardi sulle alici Le alici Le alici Ciao grandissimo conto Ciao Vissi? Magari io ci sono Ti volevo dire Quando saluto non solo a te Io parlavo Non è che sono trasparente Io cazzo Ogni ho scelto Ma sei trasparente La senti tanto Mi ha scritto al Varinas Mi ha detto che ha comprato Un po' un bretino otto Per il dopo Seraldo può non scelto Ah, va Ma è rosso o nero? No, no Ora è Natale rosso Color carne Color carne Color carne Che bello color Color macerie allora Colore delle sue racerie Va bene Forza car Ci sbucca Il tuo stomaco L'alberica Si No 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 Ma hai scambiato la borsa Di tuorone per quella Di Mary Poppins No l'ho scambiata per me Un po' carrello da spisa Perchì Eh no, sono enormi Ci rintiene di tutto Lei fa un traslogo Quando esce Fica tutta la sua casa là dentro E ci può fare i video a quella vista Ma dommagini che Alcolina compromette a quella vista Facendoci fare i video per tiktok Ciao Non c'è un bello Già te l'avevo salutato Ma lui parla troppo Ah già mi salutava Sottina Ti ha Un regalo che vale anche per Armando Un palettone con uva passa L'uva passa Ma non saluta A lui Ma Eli Io Romani ti direi Che a chi ti dava Ma signora per i pacchi Ci fanno Gli straordinari Sì Perchè ora gli daveni Ma chi dava per tutti i pacchi Ma stasera Tutti io Stasera va anche il mio amico Alexander Ognì è Alexandre Plus Of Fidesame Ma come dovresti che Romani Guido io Io mi lascio con lui Che mi lascio Conte tutte le donne fanno così La prima sono io Ma che cosa Mena In che senso tutte le donne fanno così Che cosa Mena Ho stai capendo La sento magari la prima No Sono una dalle tradizionalista C'è No Bavina mi ha detto che si è comprato Un completino Per il dopo cena Con mia Per il dopo evento Con mia Colore cannabis L'avevi scelto Io ho comprato i connettori imponi Per portabili Veramente Rizzi Botta a mille Romani Sceglie I Romani Botta a mille Nella borsa C'è di tutto Io adoro Ti manca Alex Certo che mi manca Alex Armando A me tutti Quando manca uno di voi Nella live Uno di quelli più frequenti Che ci sono sempre E a me mi mancati Sceglie Conte che le capo di fa Inizio per Natale Ma chissà Ci sono Per ora Sotto l'albero Ci sono solo pacchetti Fake Senza anelli Su figli Domani Domani sarei voluto Venire a conoscere Ma non posso purtroppo Cristian Venere Romani Certo Perché che bene hai La signora dei pacchi Volta pacchi rossi E pacchi nichi Sì Sì Tutti i bisoli Chi ti avevi I pacchi rossi I pacchi nichi Dipende I follower Ma Certo Conte una bella Spicola Una bella orata Fai annunzio Che gli fa bene Qualisci prima Non li voglio Vero Sono fiasconari I fiasconari A cattarsi Bravissimo E' potere Certo Però la milla muccioni Perché domani ci sono follower Affamate Che non capiscono un enti Tu la milla muccioni Certo Non mirare davanti I miei Anche fake Cattaio Con il tono I recini Certo Tu puoi termini Troccolo Avanti Ma metto a forza Ma metto a forza Cioè Voi me lo ricordate Io non pulissi i fari Perché poi diceva Nunzio è sempre così Sempre così volgare Così scurrile Certo Sempre Nunzio Certo Io non pulissi i fari Veramente Però Mi ha chiamato Albanino Prima di oggi Mi chiamava ieri No? Perché oggi lei è già in Sicili Già ve l'ho detto prima E ieri mi ha chiamato E ho detto Nunzio Se dimmi Nunzio Mancano solo Solo 48 ore Per il tuo evento con me Non è evento con te Non è che ti dà un evento esclusivo Evento con il forum Evento con me Nunzio Nunzio Io verrò Frank Barris Già Ok Io verrò Frank Barris Io sarò Tua 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 dama Io vicino a te Tronco Tronco Mani Certo Infatti Tronco Mani Nunzio Poi noi lasciamo quei signores Perchè io Comprato Completo Colore Carnes Dice In che senso? Nunzio Io Per te Comprato Lingerie Carnes Così Così Tu ti confondi Ti confondi E per togliere Completo Carnes Tocchi altre cose Carnes Dice Non voglio Tu carnet Perchè non devo togliere Niente Io Però ho comprato A te anche Sleep Color Carnes E poi Metto io Sleep Color Carnes Dice Grazie Emanuela Barbera Però Il signore Mi ha detto Che io Per notamenti Clarissa E Dice Clarissa Una bella donna come te Una bella Tempata Io posso fare Fare video Clarissa Per mio Tiktok Certo Ci può fare fare Io posso far usare I miei costumi Per Tiktok Certo Certo Va bene Nunzio Io domani Sarò Un fuoco Per te Per te Per te Sei scelto Va bene Quindi domani A me mi aspetto Un dopevento Con Alvarina Color Carnes Scelto Che cosa Che no Peccato che abbia Tantissimo Conoscere Peccato Tu non puoi fare niente Io domani sarò E no C'è lei che sarà Mi ha detto La mia dama La mia dama La mia dama Di commercisti La mia dama Di compagnia No Nunzio Io Tua dama Sexy Va bene Va bene Sì 9 cm e mezzo Faremo Scelto Magari Reci e mezzo 9 cm No Non si può fare Magari Reci quinta Scelto E perciò Io alle 6 e mezza Devo scappare via Forse vi lascerò Il conte Perché io Mi aspetto Una notte De fuoco Scelto Perché io C'hai una bella donna C'è sì Ma a me non culori Tu facesti Perché nell'ultimo video Che mi hai fatto Avevi una ricrescita Bianca C'è un culore A me non tu facesti Nunzio Io ho fatto colore Ovunque C'è un senso Nunzio A me i capelli bianchi Non cresce solo in testa A me i capelli bianchi Cresce ovunque C'è scelto C'è scelto Ma puoi togliere No Nunzio Donna bellosa Mui attraente Mui 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 calorosa Nunzio Lei quindi Scelto Quindi benissima Si vince un culore ovunque Nunzio sotterra Scelto Perché Lei è una donna All'antica Che non si depila Eeeh No no vince Ida non si depila Che c'entra Ida dice Io Nunzio Sio Io donna Mui antica Mui Mui Scelto Mui indietro Scelto Io non depilo Snunzio Io dingo Non ho le parole Caruso E' possibile Che magari Già E' bianca Scelto Picchi sull'acqua in a testa Già di crescita Figuriamoci in altri posti Dove non batte il sole Dice Nunzio Dove non batte il sole Io bianca Si scelto Scelto Bianca Dice Però Nunzio Tu hai mai visto donna bianca Ah Si scelto No Proprio bianca No Scelto Però C'è Nunzio Mui attraente Bianca Se tu non Non avere mai vistos C'è sempre una prima volta Nunzio In vira mia Ma Nunzio Io Sono donna Spiluzas Allora Spero che non l'hai anche tu Scelto Ha più peli del conto Ma sicuro Secondo me Avrai il pelo pure nelle capelli Veramente super Allora Vero E' una donna Allora prima ci vuota Chi è Ma poi gli altri Teresa Perchè sta sempre la pari così Su chi te è sincera Una donna Dobbiamo Ammettere però una cosa Garbarino Una donna sincera Scelto Quella non Quella non Quella non si nasconde dietro un dito Dito E' sincera Non sei io Così sogno Così Certo Non sei io in destra Da sotto Da sotto Da sotto Solo in destra Ma certo Ah sei bicolore Vabbè Ognuno Scelto Ognuno Ci vuole No Io mi dico Ah ok Certo Ognuno Può essere anche bicolore Io mi stico mai Tutta Certo 90 anni quasi Non male Magari tu puoi andare ai 90 anni Magari dai anche Certo Bella amatura Ah ognuno Non ci stai a morire Ma è lei che mi fa questi discorsi ragazzi È lei Io sono Ogni volta essere fatto Davanti a tutti questi discorsi C'è di Eita che mi fa questi discorsi Voi immaginatevi a me Che ascolto a lei Che mi fa questi discorsi Per il telefono Manco di presenza Perché non ne potremmo avvirli Per te Buonasera babbina No le unghie dei piedi Ce l'ha bella Ce l'ha fatta la pedigure Mi disse Fresca Ti può fare un design Io lo so Eh Babbina scusa Mi ho detto che Alvarina Mi ha convidato Perché già è in Sicile Dice che io domani scoprirò un corpo Belloso bianco Perché ci disse Magari la tinta Te la sei fatta in destra Che avevi la ricrescita Dice Basta pure io voglio fare la morta di fame Dicchia come vuoi E' falla Scelto Nunzio Gli racconti che io per Natale Preparo gli arancini al pistacchio di bronda E tu E' mannigli Cristi Mannigli C'è bisogno che glielo dico a Conte Mannigli Belli Catuma Scelto Mannigli Nunzio Si è decolorato Nunzio Si fai Gli raccogli 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 Buonasera a cazzo Gli raccogli Buonasera Anna Vabbè ragazzi Si è in bocca alla padella lei Che dobbiamo fare? Aspettate che cazzo Cazzo Ah stanno calando i piedi Aspettate Aspettate Vediamo se qua succede un patatracto Tra un attimo Vabbè Come ci vedo se è buono Un cazzo Un cazzo Si è portato questo Se ce le viene forse Vabbè 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 ragazzi Si si è decolorata Ciao babbina Babbina è già sotto E' a young bambini Comunque Chiupi lupi tutti No niente Ci può fare magari i mesh Lui non sa di cosa stavamo parlando Mi raccomando Acqua in bocca Che sennò discorsi nostri Se io vado a fumare Niente Voi rimanete con queste immagini Certo Stefania Paratore Gioia mia del mio cuore Che fa anche a prima Per questo ho detto il cognome C'ha tutti i capelli di te Sai io con tanti capelli di anghi Di lato Capito perché ti ho detto il cognome Stefania Paratore Io sono una testa alla Gioianchi No come Alvarino Si parava a ripiro Armando Già me l'hanno detto Ma vuoi dirmi Ehi A tra poco A tra poco ho scelto Avanti 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 Io qua sono Nunzio ma il tuo nome è favoloso Brigida Ma chi stai dicendo? Nunzio è un nome favoloso? Certo Dicono che è un nome favoloso il tuo? Ma non lo so Ma non lo so Non lo so Eh? Scaldato Certo Ovvio Allora di che stavate parlando me lo volete dire? No Non mandate stelline Non mandate Non fate nulla Sei bellissimo Nunzio Benà ma che dici? Ma che dici? Grazie Paola Montagna Stefania Stefania Paratore del mio cuore E' per me quello che hai scritto Beh tu me su Io No No Io 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 sono Brizzolato Io sono Affascinante con questo brizzolato Ovvio Analizza un po' lì e lei capelli bianchi da quando aveva 16 anni Perché non te li dici? Brava Simo Ripida si parrava Armando detto annunzio che appena faccio gli arancini di pistacchio di Bronte e Tuma Ve li mando in un pacchetto Brava Cetti Grazie Io l'accetto ben volentieri Ma il conte non scherza E' strabello Grazie Mena Mena Manumotta Di patate pelose In biancate si parlava Certo di Alvarina sicuramente allora Di Alvarina Ma c'è un eco Armando Antonella Zizzo Non lo so perché Noi siamo sempre nel solito posto Buonanotte splendidi a domani Ma le tira lì sotto ti sei tanto a coricare Va bene Scelto il cuore tu sei il mio sole e non sei il mio cucciolo Grazie Stefania e tu sei l'amore mio Grazie Buonanotte tra poche ore Ahimè devo andare a lavorare Grazie per la vostra compagnia simpatica A te Corinne Vassena Armando fatelo spiegare Giusti di cosa farfugliavamo Ma già l'ho capito L'ego che c'è La troppa pulizia che c'è in casa probabilmente Affascinante gli uomini con i capelli brizzolati Adesso non c'è più a posto Ok Quindi è un problema di Facebook tutto sommato no? Anche la pubblicità ma solo a me Io ti voglio chiamare Nadia Manomot Avanti Vince cos'è quella N? N sta per annunzio Ora torna non vi preoccupate Ciao siete meravigliosi Giovanna Senato Grazie 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 Sto pensando che appena torna annunzio Chiamiamo qualcuno in diretta Quindi prenotatevi Prenotatevi Che appena torna annunzio Faremo una chiamata in diretta Quindi ci collegheremo con qualcuno Che si è prenotato Io vi lascio un bacio Per ognuno di noi Grazie figli Eliseo Un bacione anche a te Un bacione Una buonanotte anche a Valentina Rizzotto Ma ve ne andate tutti Buonanotte Ad Annalisa Borriello Insomma vi state andando a coricare tutti Ma che succede? Ma chi vi piace lo l'ho più Ho sbagliato Comunque volevo scrivere Nunzi Armando Va bene Ma chi vi mi piace lo l'ho più Ma mi state andando a cuccare? Raga buonanotte Che domani sveglia presto Devo fare la morta di fame Va bene Meri Colombo Chiamata live o al telefono? No Chiamata live qua Quale è il telefono? Qui Dove si vede il vostro viso Dove possiamo interagire Dove possiamo interagire No? Guardandoci negli occhi Tessoro Questo sarà il nostro secondo Natale Che ci conosciamo E se penso quando è stato bello La vigilia La live Me lo ricordo pure io Stefania Casemo Prenotatevi Che appena ritorno l'annunzio Faremo una bella chiamata in live qua Quindi prenotatevi Prenotatevi E non mi dite Perciò i capelli sfatti Non sono truccata No, non voglio Allora Dice Vincenzo Come si fa a prenotarsi? Se non mi sbaglio Ci sono tre panellini O giù nel telefono Dovete fare Spiegateci a Vincenzo Come fa per prenotarsi Così Vincenzo Ci farà una bella canzone Ci indiretterà con la sua Ugo Ladoro Io sono troppo timida per parlare Infatti faccio veramente live Tanto domani ci vediamo Va bene Ma possiamo prenotarci tutti O solo chi non conosce? No, vi potete prenotare tutti Adorerei vedervi in un film Siete troppo simpatici Cristi grazie Del buon augurio Fatto Va bene Appena torna l'annunzio Fra due minuti Ti chiamo Ah quello non puoi La tua Ugo Ladoro Non puoi Va bene Va bene uguale Armandio visto che poi mi sono iscritta L'ho fatto per voi Perché vi adoro Certo Antonella Grazie 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 Mi ammazzano al palazzo Potrei salutarvi Questo sì Certo Va bene Ora facciamo una videochiamata E chiamiamo a Vincenzo Ho detto Vincenzo Prince Vincenzo Vincenzo Appena torna l'annunzio Anzi vediamo un po' se già ci sei Vincenzo 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 Allora Vincenzo Devi accettare Io ti ho già chiamato Accetta Accetta la chiamata Ciao Alexander Ti abbiamo cercato come una unghia pessa Dai Vince L'invito Ha rifiutato l'invito Perché Vincenzo Hai rifiutato la chiamata Io ti ho chiamato E tu hai rifiutato Bravo Ti richiamo di nuovo Devi accettare Ti sto chiamando io Tu hai prenotato Io ho accettato la prenotazione Ora tu devi accettare Che io ti sto chiamando No? Ecco Buonasera Buonasera Non ho fatto Non ho fatto la cosa A chiuderla Ma mi vedete? Certo che ti vedo Che devo fare? Buonasera a tutti quelli che sono collegati C'hai il pizzetto alla Tartagnan Allora Il superman Ma sono a casa quindi C'hai il pizzetto alla Tartagnan Il nero alla Rosselloana Ma io ti sento pianissimo Ti sento troppo piano E anche io Ma è un problema di Facebook Non è un problema nostro Stavo dicendo Ah il pizzetto alla Tartagnan Sì Il nero alla Rosselloana E il mio Il mio Il mio segno particolare Guarda che ce l'ho anche io Nascosto dai baffi Guarda Ce l'hai anche tu? Io lo nascondo con i baffi No io non lo nascondo proprio perché mi piace Ma il tuo è un po' più sopra Il mio è un po' più giù Sì Quindi tu riesci a nascondere Io riesco a nascondere Questo è il neo della bellezza Esatto Cioè Ma il live si può fumare no vero? Come? Il live si può fumare Ma se metto le cuffie ti sento meglio? Eh questo non lo so Prova Aspetta un attimo Non so dove ce l'ho Scusate Prova Prova Avete visto a Vincenzo? Alexander ti ho visto ma non ti vedo più Alexander Aspetta sto prendendo le cuffie Prova ora Tu mi senti? Ah ora ti sento benissimo Hai visto? Solo io che ti sento piano allora Ci vogliono le cuffie Se metti le cuffie si sente Appena viene l'uncio le vado a prendere Perché se mi alzo pure io Ok Resti tu col divano Tu hai il divano? Ok No no alla stessa Eccolo qua sta arrivando Ok Guarda che c'è il live Si Ma che è una bella donna? No c'è il pizzetto alla tartagliata e il neo alla rosselloa Una donna col pizzetto Si La donna barbuta sempre piaciuta Nuncio Ma chi è? Caso E non vuole cantare Buonasera a ti No non posso No Buonasera anuncio No non posso cantare ragazzi Veramente se no mi Mi ammazzano Ma non devi cantare a passavoce Ma che avevi visto? Che avevi visto? Una vestaglia La vestaglia La vestaglia Sì! Di Superman Ah di Superman Di Superman E' pazzesca Tiene caldissimo Ma scusa perché non te l'ha comprati Io ovviamente sono pronto a prendere Ma cuccare Come? Perché non ti compravi la vestaglia di Candy Candy Me l'hanno regalata questa e quindi me la sono presa Mentre la rendi? Si va che affari? Se mi metti i denti no? Sì e poi ripeto Ma spieghi una cosa Per chi sta furiando casa a casa? Per chi stai fumando eh? Ah sta fumando Io sono tornato Quindi siccome qua c'è la finestra aperta vengo qua Ma lo vedete? Ti stanno scrivendo Super Vince No non vedo niente Vincenzo mi faciste furiare i locchi Invece Non vedi i commenti Dove sono i commenti? Come dove sono? Io li vedo Sono in basso In basso A sinistra Sì ma a me non me li fa vedere Ah non te li fa vedere a te? Nè Divido io Perciò tu domani vieni Allora ragazzi Domani io lavoro dalle due Ma perché non si fa più che successe? Buono va? Non so che cosa sto facendo Allora domani io lavoro ragazzi dalle due alle otto Potrei forse staccare prima però non lo so Stacca prima Stacca verso le cinque Non dipende da me nel senso Buoni Insomma ma quella vestaglia più che essere di superman Non è la vestaglia del catania No è di superman No è di superman originali E costavo magari assai Sì va bene Ma è il rosso blu del catania Sì vabbè sì Però non è tutto catania Però sì a livello di colori sì I colori sono quelli Ma ma vincere Esatto Di Picanetto Di Picanetto Sì Ho indovinato Sì non dico dove ovviamente No 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 ma per chi io non l'hai? io ce l'ho è sexy il neo qua ce l'ho da quando sono piccolo nel senso l'ho sempre avuto ci nascissi questo neo perché prima è uscito il neo anziché la testa è uscita il neo prima no in realtà vi è spuntato tipo quando avevo 3 anni hai visto però grazie a dio non ce l'ho cioè mi è rimasto a neo nel senso che è sottopelle non è tipo sollevato non è il boretto ah no non è un boretto tutti stanno dicendo che devi citare fermo ma sono fermo ci stanno facendo gli imparti testa ma sono fermi sì quello è un boretto ma chi sta dicendo è un boretto no assolutamente ragazzi ma se è il discorso di prima che ora ti ho a quattro occhi a te belli spigoli belli orate no parlando di pesce sono io sono serio quando scrivo è serio magari io sogno serio ma infatti l'ho detto c'è spigola orata scegola a mia fatti mascolini a mia chissi mi piacciono pesce no no questo no no non mi piace non mi piace ma come si chiama l'autopisci che si fa cacifuggata i sauri i sauri i sauri no non mi piace e pesce così va si è di seconda scelta ma magari litezza io quando vado da pesci vento ci dico ma dai ti stai debboiato o se no o se no mi mangio questo qua ma che è bello prosciutto sotto vuoto è prosciutto crudo sotto vuoto che me l'hanno portato viene dalla Spagna il prosciutto quello là costa tipo 100 euro chili non lo so ma quando portavo allora domani lo porti da Frankie Bar no chi sto me lo mangio io tipo oro mi viene la diarrea mi viene la diarrea mi viene la diarrea no quelle diarrea io tutte cose digerisco ma non è che puoi mangiare da solo chi mangia da solo e non mangia in compagnia è uno spirro è una spia è 100 grammi ti pare ah 100 grammi 50 euro e 50 euro vabbè io sono generoso e lo so ma senti Vince si può fare ma senti Vince quale follower ha affamato perché tu sai qualche tipo di follower ha io io qua mi chiedono ma Vince il single single shit non vedo i commenti no comunque non sono single ma le persone che tipo che so che c'è che seguono me nel senso di gli utenti che io ciò che seguo cioè vedono che io sono in diretta in questo momento scelto ovvio ah quindi qua potrebbero entrare in live persone tu e amici tuoi che dicano scelto nessun problema allora ragazzi Vince non è single quindi buttate gli occhi a terra scelto perché siete proprio troppo affamati comunque Vince ho capito il risposto prima di avvarire mi disse che hai da scelto io io ti recisto di lasciare perdere nel senso ma io io volessi lasciare perdere ma è idea che non mi lasciare perdere cioè non scelto ma quindi domani come? domani? ma chi stai sentendo parlare due volte come tu vuoi dire? una volta stai parando io una domani no no mi sento io stesso parlare sto dicendo quindi domani a Frank Bar ci sarà spagnola spagnola scelto domani domani c'è lei domani sarà la mia guardia del corpo lei domani sarà sul di me proprio fisicamente sul di me verrei verrei cioè spero di venire solo per vedere questa spagnola allora non mi salutare in più non mi salutare in più c'è Vince e vedi i rumani si ruba lì a la parina cioè ma voi ve ne rendete no nel senso che se viene ma io comunque sento due volte ragazzi mi sto sentendo lo stesso senti di torno che sento e chissà c'è io cazzo neofemmo non mi sto muovendo infatti non stai capendo niente guardia del corpo Alexander tu nasti magari Alexandra voglio morire ma tu lo sai che Alexander ha fatto l'amore in un cimitero mamma mia sì perché lui era al funerale della zia c'è stato un gioco di sguardi con un altro che era un funerale con un'altra persona che era al funerale e niente e poi è successo quello che è successo era una chiesa entro al cimitero cioè con tante poste t'ha capitato mai a tia vince t'ha capitato mai no no entro al cimitero mai no 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 ma devo dire che in posti strani non mi è mai successo cioè nel senso nella macchina vabbè nella macchina a casa dentro in bagno ma tipo come l'arizzotto in un bagno pubblico tipo bagno quello là no pubblico nel senso di un barra un bagno che è in gabbiotto sai quello che metto nelle piastre sì ho capito no no a rizzotto magari già certo e casca o iza un bagno maronna a menza a chi devo cacciare da inza poi scelto dice alexander sei monotono cioè che monotonia lui al cimitero scelto e vabbè nel senso non è che me la vada a cercare però già il cimitero a me mi porta inquietudine sì ma tu quando vai quando speriamo mai ma quando andrai in un funerale sei al cimitero guardati in giro non si sa mai scelto contro una bella cimitero scelto io penso che comunque al cimitero non ce la potrei fare non funzionerà niente al cimitero esatto non potrebbe funzionare niente poi a questo tempo a me non so freddo ma come vuoi fare no non lo so sera d'estate poi sera d'estate ok allora magari forse di mattina che c'è il sole ah può essere scelto tra una tomba e l'altra esatto tra una tomba e l'altra però di sera mi pare mi pare difficile di sera no di sera mi facesse impressione magari a mia no no di sera no comunque io sento sempre e ragazzi siamo al cimitero quindi sarebbe tutto morto completamente morto per rimanere in levato cimitero vincenzo stai fermo ma chiavi spimmoli nel sedere ma io comunque mi sto sentendo due volte parlare è una cosa fastidiosissima ma ti senti tu stesso senti a me due volte non sto capendo sento due volte l'audio cioè tu dici una cosa io ti rispondo e poi io risento ah ecco boh non lo so sarà un problema di facebook va bene vincenzo facciamo una cosa animeremo romane spero di sì comunque già mi ha fatto piacere che almeno ci siamo visti così grazie anche a noi ora fate chi scherza anche a noi perché così già è un altro effetto che voi ci vedete sempre ma noi non vi vediamo quindi è come se materializzassimo quello che vediamo scritto esatto comunque è stato davvero un piacere non so io comunque sono qua fino a quando non staccate va bene grazie va bene a dopo grazie ciao ciao a tutti ragazzi ciao avete conosciuto a vince se sei contenti scelto non ci ho detto a vince che pare Maria De Filippo a c'è posto per te in che senso ma se ti muovi mica passo eh ma che c'è in cia ciao Carmelo bello Carmelo da Giulia e Clemente è sempre bello perché è un mio fan accanito bello bello Nunzio devi dire a Vincenzo di rivedere la live domani così viene mal di mare anche a lui ma magari a me a me viene poco di mal di mare va bene ora dopo Vince chi si collega Alexander ti colleghi ti puoi collegare tu perché qua sono state affamate di Vince ma Vince è fidanzato niente ora loro vorrebbero vedere un altro scelto un altro perché chi si si sono affamate aiuto l'occhio mi furia ciao Vincenzo ma la prossima volta sentiti ma non è che ecco mamma mia bello fermo assitato niente non stava mai fermo vabbè era emozionato emozionato scelto si muove come Maria De Filippi quando faccio posto per te ma chi te fava andare quella fava andi indietro non è che chi si gira su se stessa fava andi indietro Alexander scusate ma sono ma mi sono messo troppo in che senso no era sigaretta ah sigaretta era bel ragazzo Vincenzo vero Rizzotto tu non l'assi niente Rizzotto niente comunque ho raccontato Rizzotto che tu quel tuo fatto amoroso del bagno che tu hai scelto che tu hai piazzi vero Carmelo sei un mio fan canito affezionato bello certo gioielleria Clemente Catania Vietternea Idici Idini Cammelo che simbatico Cammelo poi c'è Valentina che è sua moglie Ciaso essendo che vai dicendo che faccio cose che faccio e tu muricisti Rizzotto me l'hai letto tu dice io ho fatto una volta cascai magari tu io l'ho raccontato a Vince perché ho raccontato di Alexandre che fanno i cimiteri e tu nei bagni biologici scelto mi è venuto il martedì ma mi sono prenotato solo perché a mezzanotte faccio l'onomastico pii l'onomastico fai fino a chi ma perché ma che ma si chiama Agata mi chiami Loretta Lorenza no no ah è la figlia ok è la figlia di Agata San Lorenzo per la notte di San Lorenzo è la madonna di Loreto domani forse non lo so come ti chiami è la madonna di Loreto domani come ti chiami San Lorenzo è ad Agosto va bene accettiamo no Vince tu basta che già ti accettai Agata Finocchiaro domani viene Maria Grazia Borbone avanti accettiamola Borbone si è a Rizzotto a dormire chieda se è in piccaia chieda non la schiotta nessuno Lorena infatti domani è la madonna di Loreto domani si chiama la madonna di Loreto non si ma dov'è il conto è caglia buonanotte paratore mi viremo rumani Carmelo è molto simpatico vero che è simpatico Carmela Caducci Parato Alexander non c'è più ma chissà quando parlavo con Vinze rideva perché io raccontavo il suo cimitero ma il dopo è scombasso quando gli dico di apparire sono a letto i bimbi già dormono Rizzotto tu fosti bagnichi biologici certo ma ci cuntai a Vinze che a Rizzotto non bagno mi disse ma tu vai a condanna così Riggio Antonino Costa certo se domani vieni ci conosciamo chiamatela Rizzotto la Rizzotto rifiuta è inutile che la chiamo io la posso chiamare la Rizzotto ma lei rifiuta ma manco c'è e manco c'è qua nella lista perciò come la chiama Rizzotto Alessandra Siracusa no si è cangellata niente va bene alla Borbone di nuovo ma quali devi accettare Borbone ma no è l'emozione è l'emozionato Vinze certo perché non è che capita tutti i giorni di parare ma buonasera Borbone mia ti chiami come caffè che non bevo mai c'erano dubbi ma lei è la signora Borbone è quella dei caffè e manna mille è quella dei caffè allora intanto voglio vi voglio dire una cosa io sono nuovissima però siete simpaticissimi e beh ma da quanto tempo ci sei sono sono contentissima poi per il caffè Borbone mi dispiace tanto ma fossi una cosa bella essere ma sei di Catania sei di Catania scendo dalla stirpe dei Borbone spagnoli ah spagnoli certo ma di dove sei no sono della zona di Librino ah ok di Catania Catania sì certo ma ma tu siamo paesari ma tu mi hai detto prima sono nuova ma da quanto tempo ci segui da da quattro giorni così ah proprio fisca fresca sei nuova lavata con Perlana perché Perlana non è solo Perlana anche per i uovi mi siete simpaticissimi quindi grazie ma senti ma tu sei ascolta mi ascolta io ieri sera sono stata in piazza università siccome di solito venite andate in viomberto a mangiare cose buone con mio marito gli ho detto chissà se incontrerò il conte ma tu lo sai che noi eravamo proprio là ieri sera ieri sera ieri sera e l'ammi un berth però non siamo andati poi in piazza università siamo andati a lungomare e vi ho visto con tuo anore e tuo figlio complimenti grazie siamo andati da Ernesto a posto a posto sono contenta veramente di conoscervi e vi vi seguirò e allora domani verrai al Frank Bar non posso venire perché sono senza senza macchina su mi ha peri e fate accompagnare di qualcuno vieni con tua commare con tua con suocera ma senti una cosa senti una cosa certo perché te lo chiedo certo ma cosa ti ha incuriosito di questi due pazzi a seguirli ora i segui a chi che sono pazzi cosa ti ha incuriosito di più allora mi ha incuriosito la vostra il vostro carattere semplice però nello stesso tempo acchiappare quelle persone che li fate stare bene ridere con voi con quelle battute bella grazie in questo periodo così buio e triste facemone quattro risati va ma tu non sei una di chi ti inciunati che non mette segui ah sei una di chi ti inciunati che non mette segui tu no no l'ho messo ah l'ha messo allora scorta io non non mastico bene facebook instagram le cose io ho visto voi ho messo segui poi più i drag con mia nuora me lo farò spiegare meglio avanti scelta scelta sei simpaticissima grazie sei simpaticissima grazie siete fantastici grazie fatevi ridere di buon umore grazie una buonanotte domani se non posso venire domani ti mando tanti auguri grazie 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 ciao ciao ragazzi grazie ciao ma che bella borbone proprio allegra ma non è quella del caffè no non è chitaro caffè ma manco le palettine del borbone niente borbone solo di no ragazzi avete visto che vitalità aveva la borbone su mezzanotte da bella certo ci segue da quattro giorni quando fa l'autoprosciutto spagnole si muoveva tutto paro va bene ragazzi chi si vuole collegare ora con noi la borbone l'ultima perché già si è fatta l'ora si è fatta l'ora dei pavesini ma un'aria sotto non c'è niente ecco posso cercare niente ragazzi chi si vuole prenotare quando paravo il prosciutto spagnolo risotto resta stituto il prosciutto spagnolo stasera allora fai così domani riguarda la live e poi ci dici ma state parlando ancora convinto mi sono seduto comunque state parlando ancora convinto che è carina molto molto carina avete visto che è carina la borbone bella da quattro giorni è frisca frisca scelto noi ci avevano anno e mezzo che qua ne combiniamo di tutti i colori lei si è vista tutti i video e le live e andate indietro e mo' viola voi siete zucchero voi siete siamo zucchero Alessandra Siracusa hai perfettamente ragione zucchero non guasta bevanda la borbone gli piace alla poli se gli piace alla poli già sei a cavallo perché la poli sorveglia tutte le affamate però tu ci piaci scelto ha trovato in te quel qualcosa in più il non pericolo il sex appeal però poli però poli a borbone ieri ci vista suo marito a Munini già che fosse incontro a Conte quindi non lo so la borbone non ti fidare assai della borbone poli ciao perinocera da Torino ciao io mi saluto ma mi dispiace che non sto potendo salutare alexander no no c'era prima quando parlavo con Vinze c'era lui di terra e sarà che si è addormentato siete i nostri idoli vai Lorena domani domani a Frank Bar alle 16 e 30 ovvio parliamo con Vinze non ti caga ma Vinze non ti caga a Rizzotto chi tu pensa a mio Conte no a ti a Rizzotto scusate ma io che ho fatto dentro il traghetto con le onde altissime ma cui c'è la Messina che degna il traghetto con le onde altissime il Conte no no sbagli Rossana abbiamo due cagnoline sbaglio ma vedo il Conte ha premuto di andare a letto che intenzione ha il Conte di dormire proprio sono stanchissimo ciao Milka Marchi oggi il lavoro mi ha massacrato scelto sono stanchissimo e domani un'altra giornata di lavoro massacrante scelto domani ma non ci abbiamo un incontro a Frank e quindi ancora più massacrante perché mi devo sbrigare per essere puntuale e profumato per le 16 e 30 per le mie profumato non c'è bisogno perché non ti possono odorare si è presentata bene la Borbone ma io non mollo la Borbone brava Poli perché si è presentata bene però ho sentito ma ho sentito che c'era Carmelo c'è ancora ciao Carmelo quando gli ho detto il mio fan a Canino mi dissi bravissimo vero è scelto è un fan nostro bello Maruela Messina vero il conte ha gli occhi che stanno di sonno sono stanco devo dire molto molto stanco Anna po' venire perché già albarino in Sicili po' venire tu domani c'è tu trovi tazza ma mia certo si dice rosario quaccio posti certo peccato che siete a Catania altrimenti sarei venuto a sicuro Teresa ma per chi non può venire gioia ogni volta che siamo in giro per Catania nei centri commerciali i miei figli guardiamo bene diciamo chissà e allora venite domani e allora venite domani venite domani sapete dove siamo e non venite siamo a piano tavola diamo un gibello 112 al Frank Barra alle 16.30 Vincenzo Fuccio sei simpaticissimo seguirò anche te curioso di sentire come la pace sia con te vedi che è impegnato è attrettanto Sassi la pace sia con te ciao Sassi ma perché entra come un prete bravo Rossano domani prenditi l'aereo bravo pichiti l'aereo Romani ciao Carmelo vai Carmelo vedi che è bello Carmelo ma c'è magari Valentina che ne sta tagliando ci sente perché Valentina ci sente Carmelo ci guarda anche Valentina ne senti solo niente grazie mille gentilissima Vincenzo vieni carizzotto è affamata non ti fidare da rizzotto Vincenzo è quella che buonanotte Emanuela Messina è quella nei bagni biologici scelto lei è proprio lei benitroccolo domani non puoi venire e che possiamo fare come non puoi venire non so c'è chi sta a fare imbriaca che ti è venuto ma è proprio un povere sono di Milazzo io amore mio è troppo lontano povere mi fate salire un attimo che mi sono seduto in che senso mi fate salire un attimo ma domani mi fate salire un attimo aspettiamo a voi che offrite a noi che offre già subito offro voce del verbo offrire regalare io offro al conte tu offre al conte egli offre al conte noi offriamo al conte voi offrite al conte e si offrono al conte e a mia tutti a tia da notte tutto a me ah scherzo anatroccolo qui ti è già pronto alla macchina anatroccolo ti cambiamo il nome non eri più meri troccolo eri il brutto anatroccolo ah vedi Valentina mi sente lui ci guarda Valentina ci sente capito se domani non vieni diventi brutto anatroccolo non meri troccolo se riesco a vogliorare certo che avvicino Giuseppe e Maria una cosa da vendere scelto si scherzetto che no ma da lui scherzetto un distoccametto anatroccolo buon divertimento per domani notte grazie Mirca un abbraccio annunzio l'avrei dato volentieri ma io sono sei della provincia di Latina ah sulla mia mia ah se non sei di Latina Latina che sei di Latina sono sposata chi fa capire che c'è la faccio capire quando sei sposata e affamata allo stesso momento scelto voce del verbo il conte consuma il conte consumerà il conte continuerà a consumare il conte consuma sempre così il verbo offrire lo fa soffrire ma da morire Antonella non puoi capire quanto per quanto siete fantastici ma fa freddo a Brescia magari c'è prezzo per farvi un regalo mi fa nillo sto regalo grazie Luigi io sarei da prendere ma sono in un e ambra prenditi un aereo e vabbè prenditi un aereo ormai l'albero l'hai visto no Anatroccolo no così mi chiamavano a squadra hai visto Meritroccolo Anatroccolo Anatroccolo scelto va bene se tu resti io vi saluto a tutti no quale resto io corro insieme a te io già è a frevica mi sta chiamando scelto ragazzi grazie 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 per esserci sempre perché ci divertiamo insieme ci fate morire ed è sempre meglio stare in vostra compagnia grazie ai medici a tutte le persone che lavorano negli ambienti ospedalieri nelle cliniche nelle case di riposo un abbraccio agli anziani un abbraccio alle persone speciali ai bimbi ai grandi speciali grazie ai vigi del fuoco e a tutte le forze dell'ordine grazie al 118 e al pronto soccorso sempre vigili per noi insieme alle forze dell'ordine grazie grazie ma grazie di chi e alle suore marcelline ciao suore marcelline di Roma e di Tugano ti aspettiamo numerosi domani pomeriggio alle 16.30 piano tavola diamoci il bello 112 Frank Barro bacione buonanotte sono i belli carosi io so a Gionno sembra ci vediamo a Frank Barro domani a 16.30 a Gionno come picchiata stanotte non lo so se io domani scelto non lo so tocchiamo ferro appena chiudo la live io metto a Ravanares come mi dice la mia amica in Sicili e ci vediamo domani a Frank Barro qui a Moncibello 112 piano tavola a Belpasso c'ho da mia c'ho da Togonda c'ho da a Barri in Sicili e forse anche Clarissa non lo so a domani scelto però ci vediamo domani col buongiorno se fa solito qualche video e poi ci prepariamo ci facciamo belli ci profumiamo prima che mi venga l'arizzotto scelto buonanotte buonanotte grazie a tutti voi per essere sempre qua con noi scelto buonanotte Valentina che so che mi stai ascoltando tu buonanotte buonanotte Carmelo tu mi vedi anche scelto buonanotte buonanotte Poli ti sto videochiamando tra poco scelto